La parrocchia di San Pio in Pietrelcina di Mesagni ha regalato alla sua comunità di fedeli sulla via della croce, uno spettacolo musicale interamente dedicato alla passione e alla morte di Gesù Cristo. La location scelta per andare in scena è stata all'interno della chiesa di San Pio, ampia ed accogliente in cui in tantissimi hanno affollato i banconi per poter vivere, in un modo diverso dal solito, i misteri nascosti nelle ultime ore di vita del Cristo. La scelta di rappresentare la vita del Cristo attraverso il musical è stata compiuta da più gruppi parrocchiali, che mediante un nuovo linguaggio, quello veicolato dalla musica, riescono a raggiungere anche chi è lontano dalla condivisione dei riti della Settimana Santa. La cosa è la mia figlia, non è stata la prima? Le parti recitate sono state ridotte al minimo per dare grande spazio ai canti, di gioia come lo sanno per accogliere l'entrata di Gesù a Gerusalemme, ma anche di grande impatto come la riproposizione dell'ultima cena. Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo che è per essere immolato per voi. Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue che sta per essere sparso in remissione dei vostri peccati. Tutte le volte che farete questo, fatelo in memoria di me. Due i mesi di lavoro per coordinare le parti e i canti studiati da attori e cantanti, cui si devono aggiungere le comparse e i ballerini. In tutto, quasi 60 sono stati gli uomini, le donne e i bambini che hanno scelto di dare vita alla passione di Cristo. Chi mi separerà dal tuo amore? Monte o vita, penati e potestà, presente o venire, mai niente separarmi potrà dal tuo amore. Musica Grazie a tutti.